Buonasera, buonasera a voi. Allora, come ho avuto modo di raccontarvi oggi pomeriggio, il movimento Gilearancioni, fondato dal generale Antonio Papalardo, inizia sempre più a dare fastidio a coloro che non accettano che il generale a capo del suo movimento possa portare milioni e milioni di italiani in tutte le piazze dei capoluoghi regionali e tre giorni dopo a Roma. Sia veramente ormai nell'aria il sentore che il popolo stia reagendo, che abbia proprio la volontà di manifestare quello che è assolutamente il suo dissenso nei confronti della politica di coloro che sono al governo senza che siano stati eletti dal popolo che rimane sovrano. E questo già sin dal 2011 quando scese in politica con un vero e proprio colpo di stato Mario Monti e da lì poi tutti gli altri che, ripeto, non hanno mai avuto il consenso del popolo, da Letta a Renzi a Conte. E ripeto, questo probabilmente inizia a dare fastidio a molti. Ora, stasera il generale che ha subito nelle ultime 48 ore attacchi piuttosto pesanti ed è piuttosto infastidito ma vuole reagire e mantiene in tutto e per tutto la sua volontà, il suo ardore, la sua decisione di proseguire nel suo programma, stasera su Instagram e su Facebook risponderà alle domande del direttore Gaetano Tolomeo sulla trasmissione Opinioni Parallele. Non perdetevolo, intorno alle ore 21, quindi fra circa poco meno di di un'ora il generale Antonio Pappalardo ci spiegherà esattamente cosa è accaduto e come intende procedere. Ripeto, nella trasmissione Opinione Parallele del direttore Gaetano Tolomeo su Instagram e su Facebook. Ora, vi posso iniziare così a dare alcune informazioni per quanto riguarda le manifestazioni, in particolare essendo io occupandomi in Lombardia in prima persona a Monza posso dirvi che la manifestazione a Milano si svolgerà in Piazza della Scala, questo ormai è una cosa decisa e quindi vi posso dare questa informazione, l'orario è intorno alle 10, 10 e 30, chiaramente poi saremo più precisi. Appena io avrò chiaramente anche l'informazione per quanto riguarda tutti gli altri capoluoghi di regione sarà mia cura informarvi, anche se ormai credo che piano piano possiate avere queste informazioni direttamente dal sito che è www.gilearancioni.it. dove troverete, ripeto, tutte le informazioni che magari vi saranno utili per partecipare personalmente a queste manifestazioni. Mentre chiaramente a Roma il 2 giugno saremo davanti a Montecitorio. In queste manifestazioni che a quanto ho potuto capire sono molto molto organizzate ci sarà anche la presenza di notai, ci sarà la presenza di persone della questura per poter in qualche modo verificare le persone presenti, il numero delle persone che sono fondamentali per poi andare a sottoscrivere quello che sarà l'impeachment che presenteremo il 2 giugno a Roma. Quindi tutte cose che si stanno avviando molto bene, anche a livello di coordinamento regionale, almeno per quanto riguarda la Lombardia, ma è il settore che sta avvenendo anche in tutte le altre regioni, si è molto ben avviati, c'è dietro un lavoro importante, ma ripeto sempre che dipende da tutti noi impegnarci ognuno nel suo piccolo. Noi abbiamo visto quanto questo governo stia cercando di impedire, di impedire alla gente di poter in qualche modo esprimersi, di impedire alla gente democraticamente di protestare. Ho avuto modo di sottolineare come diverse manifestazioni assolutamente pacifiche che rispettavano quelle che erano le indicazioni, le regole da rispettare quando si è in strada e malgrado questo sono intervenute le forze dell'ordine che avevano un preciso compito, quello di impedire e in qualche modo di intimorire tutti coloro che sono intenzionati a manifestare. Questo non riuscirà però al governo nei nostri confronti, siamo organizzati, cercheremo poi di darvi tutte le informazioni utili affinché possiate in tranquillità raggiungere i luoghi delle manifestazioni. Ripeto ancora una volta sarà fatto in assoluta tranquillità perché quelli fuori legge non siamo noi ma sono loro, noi rispettiamo la legge come dice sempre il generale Antonio Papalardo e quindi non dobbiamo temere nulla nella maniera più assoluta. Dobbiamo essere decisi a portare avanti questa nostra iniziativa, l'importante sono i numeri perché i numeri sono in democrazia fondamentali per poterci riprendere la nostra sovranità. Vi ricordo ancora una volta tra poco meno di un'ora nella trasmissione opinioni parallele condotte dal direttore Gaetano Tolomeo ci sarà l'intervento del generale Antonio Papalardo che ci spiegherà cosa sta succedendo e cosa ha in mente di fare. Con questo io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.